Un turismo culturale e non gastronomico ma soprattutto sostenibile in sella a delle e-bike o a monopattini elettrici. Questo il nuovo prodotto proposto dal tour operator Artur Di Arezzo. Si tratta di visite guidate e tour guidati della città con una guida turistica abilitata, quindi professionale, in e-bike. Tour che partono da piazza Guido Monaco e poi si snodano nel centro storico toccando tutte le tappe classiche di un tour della città ma si possono estendere anche toccando nuove tappe che normalmente non sono incluse perché troppo distanti e quindi a piedi non sono raggiungibili. Ad esempio la chiesa di Santa Maria delle Grazie o l'acquedotto vasariano. Quindi è una proposta innovativa che vuole avere anche questo carattere di esperienza divertente, ecologica, sostenibile anche per attrarre un pubblico giovane che sicuramente è più allettato da fare un tour della città in e-bike che non tradizionalmente a piedi come normalmente si fa. Fondamentale in quest'estate 2021 di ripartenza sarà infatti offrire un modo nuovo e più consapevole di viaggiare per scoprire le bellezze culturali ed artistiche del nostro paese. Cerchiamo di aumentare la permanenza del turista facendogli fare qualcosa di più organizzato perché ovviamente con un calo di presenze nel mercato straniero, che questo è un dato oggettivo, dovremmo, dovendo lavorare soprattutto con il mercato italiano e quello di vicinato per quest'estate, cerchiamo ovviamente di aumentare la permanenza dei turisti in città perché l'altro indice fa bisogno di crescita economica che ci è necessario incentivare. Ho cercato di dare, mi preme ricordare che l'anno del successo del presenze, il 2019, non esisteva ancora né di scoprire a Rezzo né tanti altri portali e quindi gli operatori in questa città turistici sono importanti. Se credono loro nel turismo, loro hanno i loro canali di attrazione eccetera, siamo i primi a sostenerli in questa situazione. Una bella iniziativa, un'iniziativa green che non poteva che trovare un suo spazio all'interno della Casa dell'Energia. Siamo quella parte che riguarda un po' la sostenibilità di questa proposta. Le biciclette e anche delle nuove proposte saranno ricaricate a Casa dell'Energia molto presto, stiamo predisponendo anche una batteria al sale per poter dedicare proprio una spinta fotovoltaica direttamente ai mezzi e vengono ricaricate ovviamente direttamente col sole. Quindi questo è il vero risparmio di CO2, quindi ridurre l'impatto ambientale e visitare la nostra bellissima città.